Non so i biscotti, ma non so quelli, non so niente d'altro, perché non posso masticare. È un premio, per essere arrivata fino qua. Ora mangio i biscotti di nuova e bello un uovo tutti i giorni, come mi ha detto il dottore, di bere un uovo tutti i giorni. Sono venuta a creare le banane, perché aveva sempre malate. Sono venuta a creare le banane, ho diretto il dottore, e mi ha cominciato a curarmi. Ho comprato tanti anni, e poi venivano tutti a vedere se era vera. Se era vera! Non dobbiamo mai più per me! Dobbiamo fare la cosa! Ci diciamo! Piacere! 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 Piacere!